Affascinati dalla bellezza che solo la città dei due mari riesce a offrire, immortalano momenti con foto, si lasciano coccolare da una pausa in un bar, acquistano nelle attività commerciali. Sono i circa 2.700 croceristi approdati a Taranto alle 9 di sabato 20 maggio, con la nave da crociera azzurra, una delle più grandi della Pia on Cruises. Non è la prima volta che la nave inglese fa tappa a Taranto e la città, anche con l'impiego di forze dell'ordine, si veste a festa. Tre luoghi più attrattivi per i visitatori, senza dubbio il Ponte Girevole, il Castello Aragonese, il Museo archeologico Martà, la città vecchia. Una Taranto in festa, ormai rodata nell'accoglienza di visitatori, riesce ad offrire ogni volta la sua veste migliore.